Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a Casa Rossini, siamo in diretta e siamo qua con una giornata, tutte le giornate in diretta sono abbastanza emozionanti per me, ma questo è un po' di più, perché è la giornata che conclude questo primo ciclo, nel senso che oggi poi ci fermiamo per la pausa natalizia e ci rivedremo l'11 di gennaio, naturalmente potrete continuare a vederci nelle varie e diverse repliche. Ma entriamo nel vivo, come sempre, della puntata, ricordando i contatti, tanto per cominciare, 351 708 9977 per mandarci dei messaggi, dei video, delle dediche, insomma quello che preferite e casarossini, chiocciolarossinitv.it per altre comunicazioni, per materiale, ma anche in questo caso utilizzabilissimo per mettersi in contatto con noi. Abbiamo già seduto l'ospite ma non lo presentiamo ancora perché come sempre, ormai dovreste esserci abituati, apriamo dando un'occhiata alla giornata. La giornata di oggi, oggi il 23 dicembre, mancano otto giorni alla fine dell'anno e naturalmente due giorni al Natale. Secondo Personology è il giorno del pioniere. Oggi stranamente la giornata il 23 dicembre non è dedicata a nessuna causa in particolare, sono rari i giorni che non hanno una specifica, mentre la giornata di ieri, Andrea, mi raccomando, nessuna foto, nessuna immagine, perché la giornata di ieri, 22 dicembre, è la giornata mondiale dell'orgasmo. Per cui su questo ovviamente non completiamo con le immagini. Ricordiamo che invece un grande teorico dell'orgasmo è Maurizio Dini di Midor che qualche settimana fa venendo qua ci ha spiegato che anche la pulizia, anche tutta la passione che si mette nelle cose deve portare a una sorta di orgasmo. Per cui ricordiamo questo e dedichiamo a lui la giornata di ieri. Oggi il 23 dicembre si celebra invece San Giovanni Canzio da Cheti, un sacerdote polacco vissuto tra il 1390 e il 1473, insegnò per molti anni all'Università di Cracovia. A lui sono dedicate queste immagini che stiamo vedendo. Alcuni eventi storici invece del 23 dicembre. Nel 1947 viene lanciato il prototipo funzionante del transistor ai Bell Laboratories. In realtà un fisico ingegnere Lillenfield aveva progettato il primo transistor in Canada nel 1925 ma non ha pubblicato nessuna ricerca. Nel 1934 l'inventore tedesco Heil ha brevettato un dispositivo molto simile. Poi finalmente nel 1947 la Bell, vediamo qui l'immagine della sede della Bell, ha brevettato questo primo transistor funzionante. Nel corso della loro storia le ricerche condotte nei laboratori della Bell hanno portato a scoperte e invenzioni rivoluzionari come la radioastronomia, il transistor, il laser, la teoria dell'informazione, il sistema operativo Unix, i linguaggi di programmazione C e C++. I lavori svolti nei laboratori hanno portato a sette premi Nobel per cui direi che il laboratorio Bell attualmente ancora esistente e di proprietà della Nokia sta facendo un grande lavoro importante. 1966 viene presentato il film Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo con Clint Eastwood, Ellie Wallach e Lee Van Cleef con cui Sergio Leone chiude quella che hanno poi chiamato la trilogia del dollaro. Viene proiettato per la prima volta in pubblico. Nel 1973 esce in Italia nella collana Urania di Mondadori il romanzo breve Incontro con Rama di Arthur Clarke, autore tra l'altro molto famoso soprattutto per 2001 di Sea nello Spazio, un libro famosissimo scritto in contemporanea con la sceneggiatura del film e in collaborazione con Stanley Kubrick e ispirato al suo racconto breve La Sentinella. Io ne parlo non solo perché questo è uno dei romanzi più celebrati e più tradotti, 30 lingue vincitori di prestigiosi premi, ma il fatto che quel numero 634 di Urania, eccolo qua, io ce l'ho da ben 47 anni, l'ho comprato quel giorno lì e me lo sono letto ed è uno dei miei romanzi di fantascienza preferiti. Allora, continuiamo a farci un po' di fatti nostri? No, ancora no. Il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è il più grande ente pubblico di ricerca italiano. Il 23 dicembre del 1987 ha registrato il primo dominio internet italiano, cnr.it. Questo è stato un evento importante soprattutto perché da lì in poi il dominio .it è stato preso come riferimento per tante aziende e anche per tante altre attività italiane e da lì è cominciato il successo. Abbiamo visto anche una foto della sede romana di piazzale Aldo Moro del CNR. Da qualche giorno è in libreria, questo libro invece, lo diciamo così, rubando un minimo di spazio, perché è un'antologia, antologia audace di emozioni. Sono autori pesaresi che si sono messi alla prova uscendo dall'alveo rassicurante del web dove tutto è sempre modificabile, tutto è sempre aggiornabile e hanno deciso di mettere su carta un po' di racconti, un po' di poesie. Lo trovate al campus Mondadori Bookstore, una manciata di copie. A questo punto ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto una maratonina, ma insomma siamo nei tempi giusti e per dare il benvenuto al primo ospite della giornata Paolo Moroni, titolare, fondatore, come ti posso chiamare, di Estra Prometeo, autodefinisciti. Buongiorno Paolo. Gestore degli store di Estra Prometeo. Benissimo, benissimo, il gestore degli store. Allora Paolo Moroni non è una presenza nuova qua, Estra Prometeo è un nome, un marchio, comunque è un'attività benissimo, ben conosciuta dai telespettatori di Rossini TV, però secondo me io tornerei a dare una definizione e una descrizione prima di entrare nel vivo degli argomenti di cui parliamo oggi, di che cosa fa Estra Prometeo, lo so che l'elenco sarebbe lunghissimo e ci andrebbe via quasi tutta la puntata, però tanto per capire, per far capire perché poi parleremo di quello di cui parleremo. Estra Prometeo è una delle cinque più grandi mutuality per quanto riguarda la gestione del mercato della luce, del gas, dell'acqua in tutta Italia. Ha sede principali in Toscana ma anche qui sul territorio Osmo nelle Marche, quindi la scelta di stare nella città di Pesero è stata per noi fondamentale ed importante. Ci occupiamo sì della gestione delle utenze di luce e gas, ma siamo un vero store per quello che riguarda la consulenza delle energie rinnovabili. Altra volta abbiamo parlato dell'eco bonus, siamo tra quelli che hanno la gestione di questo ecco bonus che in questo momento è un aspetto molto importante, quindi ci occupiamo di tutto quello che è lo smart living all'interno delle nostre case per poter arrivare a un risparmio per quello che riguarda le nostre utenze. Tanto per fare una piccola aggiunta al riassunto che hai fatto e che comunque riprende tutto quello di cui abbiamo parlato. Voi avete due punti informativi, dico bene? Sì, qui a Pesero in Viale Marsale numero 20 e l'altro a Vallefoglia e Viale Roma. Sono due centri importanti per prendere la parte centrale della città di Pesero ma soprattutto la parte decentrata di tutto quello che è la zona industriale e comunque Vallefoglia che ricordiamo essere il terzo comune se non vado più popolato adesso all'interno della provincia. Abbiamo anche ricordato che in questo ruolo, che poi appunto stiamo parlando di questo, di veri e propri consulenti, di vere e proprie persone che affiancano il nostro pubblico ma tutti quelli che possono avere bisogno di qualcuno dei vostri servizi, nei mesi, quelli del lockdown strettissimo, ha funzionato molto bene il ricorso all'assistenza online. Sì, noi abbiamo un personaggio all'interno dei nostri store che è la signora Diletta che è anche il nostro responsabile che ha voluto instaurare appunto questo servizio diretto anche se online, spesso e volentieri quando noi ci colleghiamo, andiamo sui siti o telefoniamo non sappiamo mai chi dall'altra parte ci risponde o spesso e volentieri ci rispondono persone diverse. No, chi ci contatta a livello whatsapp o a livello social eccetera deve sapere che c'è un viso, una persona che appunto questa ragazza che noi abbiamo che ci sta dando grande soddisfazione proprio per avere una gestione diretta anche per coloro i quali da casa hanno necessità di avere delle informazioni, hanno bisogno di avere dei consigli e portare a termine le operazioni di cui hanno bisogno. Diletta è la persona insomma che sta facendo tutto questo per noi e ha dato un incremento e una svolta a quello che è questo servizio. Guarda questo mi sento proprio di sottolinearlo perché effettivamente è una di quelle angosce che prende quando voi chiamate già in partenza uno chiama abbastanza demoralizzato perché dice boh mi ascolteranno, ci riuscirà, i risponditori automatici e tutto il resto e in più già basta questa esperienza, cade la linea, richiami e non parli più con la stessa persona ma addirittura non è che puoi dire me lo passi perché ci stavo parlando perché magari chi ti risponde in quel momento è a 500 km di distanza da quello che ti ha risposto prima. Questo è quello che succede diciamo normalmente nella nostra esperienza quotidiana per cui va sottolineato che questo invece non succede quando chiamate appunto quello che potrebbe essere il call center ma in realtà call center non è, cioè i vostri uffici perché lì c'è una persona dedicata a questo e che poi è una persona che potete anche rintracciare e ritrovare quando andate fisicamente e questo è l'esperienza straordinaria e importante. Dall'altra parte del telefono annuncio ufficiale finalmente torna a esserci una persona e questo credo che sia da sottolineare perché è sicuramente una cosa che fa la differenza e fa molto piacere a chi è a casa. Diamo un volto alla voce della persona che ci risponde al telefono e questo è importante. Bene, allora entriamo nel vivo di questa puntata perché in realtà gli argomenti sono talmente tanti che se non li selezioniamo non ci concentriamo rischiamo di fare una lunga piacevolissima chiacchierata ma di perderci un po' nei rivoli appunto dei temi. L'argomento di questa puntata è il mercato tutelato per cui la prima cosa da chiedere è, tra l'altro c'è questo titolo terrorizzante, fine del mercato tutelato, mamma mia cosa ci stanno togliendo? Allora invece che cos'è il mercato tutelato è perché noi siamo qui tutto sommato a parlare bene della fine del mercato tutelato? Allora, prima di tutto va detto che in questo momento il mercato dell'energia è suddiviso in due rami, il mercato tutelato, il servizio del mercato tutelato e il mercato libero. Il servizio del mercato tutelato è gestito dall'autorità dell'energia elettrica, luce, gas e ambiente che si chiama RERA e poi la RERA ha dato la gestione appunto di questo mercato tutelato al servizio elettrico nazionale. Sono quelle bollette che noi riceviamo in bianco e nero, dove in alto a sinistra troviamo appunto questa scritta SEN, servizio elettrico nazionale, dove ancora nell'immaginario di molte persone pensiamo, questa è la vecchia Enel, no, nulla a che vedere con questo ente, è un ente a parte, quindi coloro i quali che ancora ricevono queste bollette in bianco e nero sono quelli che in questo momento sono interessati alla fine del mercato tutelato. Mentre il mercato libero è gestito comunicamente da aziende private che in base alla loro politica di marketing o politica commerciale decidono di fare i propri prezzi e i propri listini. Il mercato tutelato, sono ormai tre anni che le autorità stanno spiegando che c'è questa fine, questa chiusura e adesso hanno dovuto mettere una data definitiva. Queste date definitive sono due esattamente, uno per le piccole e medie imprese che sono il primo gennaio del 2021, quindi tra pochi giorni, dieci giorni, il mercato tutelato per le piccole e medie imprese finirà, finirà e non saranno più aggiornati quelli che sono i listini e poi vediamo cosa accade per coloro i quali ancora non hanno fatto questa decisione. Mentre invece per quanto riguarda i privati, questa data definitiva sarà il primo gennaio del 2022, anche se io preferisco dire 31 dicembre del 2021, perché 2022 lo immaginiamo ancora più in là e altrimenti rischiamo che accade quello che è accaduto fino adesso. Cioè ancora c'ho due anni? No, attenzione, adesso quando queste date accadranno, scadranno, noi ci troveremo a questo genere di scenario. Quale? Primi tutto saremo spostati in un mercato di salvaguardia o mercato parallelo per alcuni mesi, quindi se nemmeno in questi mesi decideremo autonomamente di fare una scelta, le nostre bollette saranno cedute all'asta a vari acquirenti, compratori di queste utenze. Quindi io posso rischiare di cadere in una compagnia che mi ha comprato la mia utenza all'asta e di conseguenza non avrò potuto scegliere quello che sono le mie tariffe. C'è da dire anche che queste persone che acquistano all'asta per ammortizzare questi investimenti potranno trattenere questa utenza per tre anni e in maniera tale che appunto vengono ammortizzati quelli che sono i costi di investimento. Quindi se io vengo acquisito all'asta, non è che dal momento che io mi accorgo che non è più conveniente questa mia bolletta di cambio, no? Poi sono obbligato a rimanere. Quindi fare delle scelte autonomo ci permette uno di non rischiare di cadere in questa situazione. L'altra cosa che per me è altrettanto importante, così evitiamo di subire queste centinaia di telefonate che noi subiamo tutti i giorni dove ci vengono a proporre offerte che non capiamo molto bene, oppure questi venditori che ci vengono a bussare la porta che io non amo mai questo genere di vendita e quindi magari mi vanno ad inventare situazioni che non sono mai chiare. Quindi informarsi prima ci dà la possibilità di avere questi vantaggi e di fare una scelta autonoma. Quindi informiamoci, anticipiamo quelli che sono questi ultimi tempi perché rimanere attualmente su questo mercato tutelato non ci dà dei vantaggi in termini economici. Comunque passare nel mercato libero ci dà dei vantaggi. Quindi fare questa scelta per noi ci avvanteggerebbe a quelle che poi potrebbero essere delle problematiche dopo. Mi viene una curiosità. Perché le bollette arrivano in bianco e nero? Questa è una scelta dell'autorità bravissima, stilistica, perché un po' come l'uomo nero. Te le mando in bianco e nero per evidenziare tutte quelle altre del mercato libero che come possiamo immaginare hanno il loro logo, la loro immagine tutta colorata. In bianco e nero per vedere. Questo ci fa anche capire se noi andiamo a vedere le nostre bollette, ma io ancora sono nel mercato tutelato o nel mercato libero. Se ho la bolletta in bianco e nero e con la scritta in alto a sinistra Servizio elettrico nazionale, bene, io sono tra quelli che devo assolutamente cambiare per legge come dal decreto di febbraio del 2020. È un messaggio subliminale che però è efficace, insomma, ed è una scelta soprattutto, non è una cosa casuale. Cioè è una scelta obbligata. Sì, parlavo della bolletta perché mi ha colpito questa cosa, questa austerità un po' dei paesi dell'est antecordina, antecaduta del muro, me l'immagino così, queste bollette serie. Quello che è importante è capire che l'idea del tutelato, che in qualche modo ci piace essere tutelati a chi è che non piace, in realtà in questo momento è una piccola contraddizione, perché la tutela del mercato finirà, finisce per legge, tra poche settimane per le aziende, anzi tra pochi giorni per le aziende e tra pochi mesi per tutti. E questa tutela, siccome finisce, attenzione perché verrà messa addirittura all'asta. Lo ripeto perché, non perché tu non l'abbia spiegato bene, ma perché mi piace capire se ho capito bene io e farlo ricapire bene, perché questo è molto importante. Se non si fa nulla, tutto sommato per una volta non è vero che non succede nulla, ma succede, succede che la nostra utenza viene messa all'asta, ovviamente non vuol dire che la compra il primo che capita, ma la compra una delle grosse, probabilmente multinazionali, che hanno come compenso per questo impegno la regola che poi saranno vincolate queste utenze per almeno tre anni. Per cui, se non si fa nulla, non si sa dove si va a finire e dove si va a finire si rimane per tre anni. L'ho detta bene? Sì, detto benissimo, i prezzi di queste grosse compagnie saranno prezzi di mercato, però non possiamo scegliere quello che sono magari le nostre esigenze, perché ogni famiglia consuma in maniera diversa da un'altra, per mille motivi, dalla persona pensionata che magari sta tutto il giorno a casa, a differenza di chi invece va via la mattina e torna la sera. Oggi presentarsi per una tariffa che appunto ci rappresenti, ci dà la possibilità di risparmiare anche un 15-20% di quelle che sono le nostre utenze. E tra l'altro, mi viene da dire, ricollegandoci a quello che avevamo detto prima, ma che è molto difficile poi che queste mega compagnie che rilevano all'asta, eccetera, abbiano di là una persona che uno può andare a trovare. No, assolutamente, assolutamente col center, assolutamente... Per fortuna. Il tele-sending sta diventando sempre più ossessivo. Io credo che come tutti riceviamo 10-15 telefonate che ci vogliono vendere telefonia piuttosto che energia, eccetera. Quindi io sono tra quello che l'unico consiglio che mi sento di dare sempre è che dobbiamo scegliere noi dove andare per poter uscire. Stiamo vedendo appunto i vostri indirizzi. Beh, noi su questo genere di passaggio ci siamo già da tempo organizzati. All'interno dei nostri uffici ci sono del personale specializzato che, controtendenza, cioè noi, le persone che vengono a trovarci possono chiedere informazioni senza per forza fare un contratto con noi. Noi cerchiamo dapprima di informare quali sono i vantaggi, i passaggi che il cliente deve effettuare. Poi può anche chiedere informazioni in merito a quelle che sono le nostre offerte e ce ne sono uno in particolare molto interessante. Ma noi la prima cosa che cerchiamo di fare è di dare la possibilità al cliente di capire che cosa deve fare, come tutelarsi per potersi difendere da questo mare di squali che in questo momento sono queste offerte. Poi può scegliere quello che possono essere le nostre offerte. Noi abbiamo messo in campo l'azienda, ha fatto un grandissimo sacrificio perché oltre ad avere i prezzi legati al mercato, che sono tra le migliori proposte che in questo momento ci sono, ha deciso di guadagnare in meno su quello che sono i costi fissi. I costi fissi non sono mai motivo di discussione perché metà di questi sono da pannaggio dello Stato perché ci sono le accise, le lieve, quelli non si possono toccare. Ma le altre parti, la parte della commercializzazione che dipende appunto dell'azienda, l'azienda ha deciso su questi costi fissi di fare uno sconto del 25%, quindi molto interessante. Per la prima volta possiamo andare oltre a risparmiare sulla parte energetica e qui lo vediamo. La regia puntualissima, ringraziamo Andrea al volo, ci fa vedere quello di cui stai parlando in questo momento. Quindi dal prezzo tutelato noi facciamo questo sconto del 25%, si possono scegliere le tariffe biorarie appunto ed è uno sconto garantito dalla nostra società. Bene, allora a questo punto, visto che li abbiamo messi abbastanza in allarme tutti quanti, io mi immagino tutte le persone a casa che sono andate a prenderne il cassetto e a vedere se la loro bolletta è colorata o in bianco e nero, immaginando che ce ne siano, ce ne sono ancora tanti, vero che sono? Guardate, questo è un dato che a me, quando sono andato a vederlo, mi ha stupito. Sono tre anni ormai, il mercato libero è dal 2007, quindi sono diversi anni. Nel 2019 a livello nazionale solo il 52% ha fatto questa libera scelta di passare al mercato libero e la maggior parte di questa percentuale è dato dalle imprese, perché magari le imprese sono un po' più veloci e cercano di avere le maggiori offerte. I privati hanno sempre paura di cambiare, hanno sempre paura di essere fregati, eccetera, no? E quindi di conseguenza hanno deciso di aspettare quasi tutto l'ultimo momento. Nelle marche siamo ancora il 45% di persone che devono fare questa scelta. E tanta. Per cui ci sono buone probabilità che voi che siete a casa in questo momento state scoprendo di essere ancora lì. Devo dire che io posso capire benissimo questa cosa della differenza tra le aziende. Nelle aziende c'è un ragionamento diverso, c'è un discorso comunque sull'ottimizzazione dei costi che nasce proprio comunque non solo per le utenze ma un po' per tutto quanto. C'è qualcuno che ci lavora apposta, c'è magari l'impiegato o comunque l'amministratore che si fa i suoi conti, sta attento, telefono a confronto. A casa non abbiamo tutta questa voglia. Poi soprattutto questa, che tu dicevi prima, questa politica così aggressiva da parte di molti operatori fa pensare che c'è qualcosa che non va. Quelli che ti telefonano ti dicono sono qui per farle risparmiare. Dici ma chi è che mi telefona per farle risparmiare? Lascio tutto così, non tocco niente. Io la capisco un po' questa posizione. Anche perché noi abbiamo un'impressione, no? Io vedo i clienti che ci vengono a far visita, io trovo magari il cliente che mi viene a portare una bolletta di 46, 56 euro bimestrali, ci sto pagando tantissimo, no? Che poi divisa per due mesi sono 27, 28 euro. E questo ha l'impressione di pagare tantissimo. Ma le bollette medie sono 120, 130, 140, dei famiglie con 4 persone, eccetera. E quindi se noi andiamo a ragionare che questa bolletta, questa percentuale di costo per la luce, altrettanta se non di più per il gas, incomincia ad andare ad incidere nella nostra economia in maniera importante. Ultimamente l'energia ha aumentata circa del 7-8% ogni anno. I nostri stipendi, le nostre pensioni non aumentano della stessa percentuale. Quindi ecco perché ritorniamo a quello che noi facciamo. non diamo un semplice consiglio solo di come risparmiare cercando la migliore tariffa come utenza, ma cerchiamo di andare ad analizzare con il cliente se si possono attivare delle migliorie all'interno della casa per poter andare a risparmiare. Quindi diamo consigli anche come utilizzare gli elettrodomestici piuttosto di fare un cambio della famosa lampadina LED che ormai tutti dovremmo sapere che c'è un rapporto molto molto vantaggioso. Quindi cerchiamo di capire e studiare insieme i clienti come poter andare a toccare le proprie bollette senza fare grandi interventi laddove invece possiamo consigliare un impianto fotovoltaico piuttosto che altre operazioni lo facciamo perché questo è il momento giusto per poter intervenire da questo punto di vista. Bene allora a questo punto dovrebbe essere chiaro l'allarme l'abbiamo lanciato dovrebbero essere tutti lì pronti con la bolletta. Se avete la bolletta colorata ce n'è anche per voi perché non è che stiamo dicendo che chi ha la bolletta colorata è a posto ha sistemato perché sennò non saremmo qui a fare un discorso solo per qualcuno ma se avete la bolletta in bianco e nero dovete stare a sentire con molta attenzione perché a questo punto visto che avete capito che bisogna cambiare bisogna lanciarsi nel mare magnum del mercato libero abbiamo qui Paolo Moroni di Estra che ci dice a questo punto cosa dobbiamo fare. Beh dopo aver appurato la nostra bolletta bianco e nero scegliamo un operatore che ci possa dare le garanzie io l'unica cosa che mi sento di consigliare al di là della scelta dell'azienda che andremo a fare scegliete un posto dove potete avere una persona con cui colloquiare in modo tale che se c'è qualcosa che non va vi potete arrabbiare con questa persona sbattere i pugni sulla scrivania cosa che a me piace fare quando ho un cattivo servizio da queste parti da queste aziende che è difficilissimo trovare quindi trovate punti fisici dove potete discutere delle vostre bollette poi se trovate anche il consulente preparato sicuramente vi darà un consiglio per poterlo fare cosa importantissima il passaggio dal mercato tutelato a qualsiasi compagnia del mercato libero non ha costi è a costo zero quindi il passaggio è totalmente libero noi come dicevo prima oltre a fare questo sconto del 25 per cento abbiamo deciso di dare maggiormente fiducia ai clienti e per coloro i quali ancora magari sempre per motivo di diffidenza non pagano le proprie bollette con l'iban bancario eccetera ma ancora vanno alle posta a fare la fila bene noi in questo caso abbiamo deciso di non far pagare nemmeno il deposito cauzionale quindi nella chiusura con il mercato tutelato ci viene restituito quello che era il costo del punto del della bolletta che abbiamo attivato qua il deposito cauzionale noi non lo richiediamo quindi sono altri 25 30 euro che il cliente in questo momento prende nella chiusura e non paga nell'apertura che ripeto è totalmente gratuito va bene che siamo a natale ma posso farti la domanda perché siete così buoni ma nel non è che siamo buoni o non siamo buoni è un'azienda è un'azienda che io mi sono legato a questa azienda perché nella nel primo incontro e lo ha presentato anche qui il presidente macri hanno deciso di guadagnare di meno su quello che sono i costi delle utenze purtroppo purtroppo queste multinazionali hanno dei guadagni altissimi su quello che riguarda il discorso dell'energia noi abbiamo deciso di stare più vicini al consumatore vogliamo che la gente ci venga a trovare proprio per capire la differenza noi mettiamo a disposizione il nostro prezzo chiediamo andate a vedere cosa vi propongono gli altri ma state attenti che questo è il prezzo che in questo momento il mercato dell'energia di luce gas propone non vi fate fregare perché tutti possiamo dire il mio prezzo è migliore di un altro noi proponiamo questo andate a vedere quello che sono comparate poi magari vediamo che questa gente ritorna non sempre bisogna in questo momento stare sulle spalle del consumatore guadagnare un po di meno ma guadagnare su più persone è meglio che guadagnare poco su poche persone questo è ineccepibile e questo chiaramente non può che far piacere a chi ci sta ascoltando in questo momento io non so perché ma me li figuro lì con le bollette in questo momento e magari si cominciano a fare qualche domanda e si domandano anche effettivamente di media perché molto difficile bisogna capire da quanto si parte eccetera di che ordine di grandezza parliamo in un risparmio di una famiglia media allora logicamente in una famiglia che consuma 50 60 euro bimestrale il risparmio alla fine è difficile andarlo a quantificare in cifra importante ma da uno studio medialmente una famiglia può risparmiare dai 250 e se parliamo anche di gas fino a 400 euro all'anno che non sono pochi che non sono pochi quindi oggi scegliere un'utenza una una tariffa congeniale al nostro modo di consumare ci può portare ad avere dei risparmi importanti che poi ripeto il fatto di poter essere serviti da un da un operatore visto vis significa che delle volte ci sono delle esigenze di cui noi abbiamo bisogno faccio questo esempio perché nel periodo del lockdown il servizio maggiore che noi abbiamo avuto sia da parte delle aziende che da parte dei privati è stata la dilazione dello spostamento della pagamento del pagamento della bolletta bene noi consigliamo ai nostri clienti e se vengono a chiedere la nostra dilazione oltretutto non gliela facciamo pagare quindi è un servizio gratuito ma possiamo spostare la bolletta di un mese possiamo dilazionarla sono tutti i servizi che noi facciamo regolarmente i nostri clienti può capitare che la seconda casa bologna devono chiudere il contatore cioè sono tanti servizi gratuiti che noi facciamo all'interno del nostro store noi stiamo parlando naturalmente l'avrete comunque già capito ma lo ripeto di gas e luce la telefonia è un sogno oppure non vi interessa allora noi la telefonia in questo momento come tutte le grandi aziende stiamo mettendo in campo la fibra che è quella che più è interessante e più assomiglia a un servizio come quello elettrico sicuramente nel 2021 scenderemo anche nella nostra città per fare il discorso della della fibra e adesso un altro competitor sul discorso della telefonia molto probabilmente metteremo in campo anche delle schedine telefoniche per i numeri mobili sempre da abbinare come scontistica ai nostri clienti questa la telefonia è un aspetto che stiamo studiando è di forte interesse per queste per queste aziende bene allora a questo punto come è chiaro casa rossini non è un contenitore pubblicitario però abbiamo comunque dato un servizio è una spiegazione importante e siccome siamo vicini a natale sono buono ti do un minuto per convincere i nostri telespettatori a venirvi a trovare beh io la cosa che posso solo promettere ai nostri clienti che troveranno le nostre operatrici assolutamente disponibili a qualsiasi esigenza qualsiasi esigenza i nostri store sono totalmente in sicurezza quindi venendoci a trovare possono assolutamente stare tranquilli di conseguenza è anche un'occasione per ricevere un omaggio nel caso in cui vengono a trovarci nei nostri store bene io sono convinto che sei stato convincentissimo naturalmente nelle regole nelle chiusure nelle giornate rosse giornate eccetera tutto seguendo le regole voi siete aperti per cui se qualcuno ha questa possibilità approfitti in questo momento il tempo stringe anche perché appunto non non ci sono giornate cioè ci sono dei mesi ma corrono anche quelli per cui non pensateci all'ultimo minuto che poi dopo è tutto più complicato e iniziate a pensarci già da ora e grazie paolo e grazie per essere stato con noi in questa puntata che conclude il ciclo vi auguro buon anno è un natale difficile ma comunque felice grazie grazie lo sarà e noi adesso andiamo in pubblicità poi torniamo torniamo con il presidente di banca di pesaro massimo tonucci e poi dopo faremo un gran finale con la nostra direttrice manuela rossi restate con noi siamo vestiti diversi poi lei è diventata più brava dai molto bene paolo niente sì 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 noi ripartiamo l'undici e poi dopo sì adesso a gennaio chiederò un incontro con la maniera per fare la programmazione in 2021 ah sì ok ciao paolo grazie grazie mille grazie massimo ciao 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 paolo poi arrivo subito allora questo bene ok quando parli si parli su quello parli con me sono entrambe le possibilità invece quella la è la telecamera campogrande che non ci riguarda allora massi siamo pronti di è buono quest'anno per adesso sto master fish ci fa tribolare ma facciamolo facciamolo no guarda e allora devo dire la verità l'ho detto l'ho detto anche a paolo ho detto anche paolo all'inizio quando lui mi ha mandato quel messaggio sono rimasto male no perché lui mi ha mandato un messaggio molto sintetico poi sai che paolo è molto sintetico quando scrive quando si parla diverso ma allora mi risponde dice guarda il consiglio ha deciso di no cazzo come si è deciso di no sono rimasto così no dopo invece ho detto a giorgio perché non faceva che richiamavo io no ho detto giorgio chiama massimo senti un po così e con quella con quella visione lì ci ha aperto proprio la visione anche a noi abbiamo deciso poi di non farlo ci siamo quanto manca prova come lo tengo così sì basta che come lo tieni poi dopo lo tieni sempre e ti giri con il microfono ok per cui cioè ma è grazie a tutti grazie a tutti ben tornati ormai conoscete il ritmo della nostra puntata dopo la pubblicità durante la pubblicità noi facciamo il cambio seggio là come si fa nel nell'ambiente sportivo e abbiamo cambiato ospite diamo il benvenuto a massimo tonucci presidente di banca di pesaro ciao massimo buongiorno a tutti ciao paolo grazie per l'invito allora invito doveroso perché secondo me è molto importante ribadire e ricordare che banca di pesaro è la banca del territorio nel vero senso della parola entriamo proprio già nel vivo del discorso vediamo il vostro spot e perché lo sottolineiamo perché in effetti ce lo siamo detti poi al telefono un po no è chiaro che territorio è un tema ed è una definizione che piace un po a tutti per cui è chiaro che chiunque opera in un ambito si sente parte del territorio banca di pesaro si sente di essere un po più del territorio perché ma decisamente più perché nata nel 1906 su questo territorio ci è rimasta per 115 anni e continuerà a rimanerci gli altri si spacciano per banche territoriali poi non lo sono perché non hanno la sede e la vita e l'attività svolta da 115 anni su questo territorio poi ogni tanto spariscono mentre noi siamo qua siamo cresciuti qua siamo nati qua e continuiamo ad operare con i clienti della città dei comuni limitrofi cioè noi siamo la vera ed unica banca del territorio perché questo è il nostro è la nostra mission essere del territorio questo è forse provo a interpretare non vuol dire solo avere alcuni sportelli alcune sedi ubicate nel territorio ma vuol dire essere cresciuti insieme al territorio ed essere parte integrante interagire in maniera determinante e affiancando le aziende ma affiancando anche i privati assolutamente sì noi interessiamo con tutte le attività commerciali industriali artigianali le famiglie cioè la nostra attività è questa stare vicino dal cliente più piccolo al cliente più grande una volta le banche di credito cooperativo che sono nate come casse rurali erano banche di secondo livello oggi con tutti i servizi integrati facendo parte del gruppo bancario icrea che ha creato questa rete di banche territoriali sparse su tutta italia siamo 136 banche e quindi siamo una banca come tutte le altre ma io direi di più forse anche meglio delle altre perché ripeto la vicinanza con la clientela la vicinanza con il nostro il nostro cliente la persona che viene in banca trova sempre lo stesso funzionario o il diciamo il cassiere che lo riconosce che sa le problematiche può avere quella persona e quindi per noi è una conoscenza del cliente a 360 gradi oltre ai suoi numeri conosciamo anche la sua le sue caratteristiche e quindi è un vantaggio è un vantaggio poi chiaramente nella fase di erogazione del credito per capire quali sono le necessità che può avere il nostro cliente contano purtroppo anche i numeri perché poi la banca di pesero deve rendere conto alla capogruppo deve rendere conto alla bce addirittura non più neanche alla banca d'italia la bce quindi i numeri contano sempre a volte purtroppo bisogna dire di no però la vicinanza al cliente è a 360 gradi ed è la nostra forza la nostra forza perché ripeto nati cresciuti su questo territorio e su questo territorio continuiamo ad operare le nostre mire di crescita sono nella crescita nel numero della clientela non corriamo ad aprire sportelli per fare la corsa alla gara a chi ne ha di più noi vogliamo avere più clienti un servizio a 360 gradi e per tutta la clientela dalla più piccola alla più grande e i numeri a posto noi ci ritrovo un po quello di cui avevamo parlato poco fa con paolo moroni no quest'idea che dall'altra parte del telefono ma anche dall'altra parte dello sportello ci sia qualcuno che conosciamo e che riconosciamo riporto un aneddoto mio personale sono andato sono venuto a fare un'operazione a parlare con il titolare alla fine siccome avevo la mascherina ho detto per per capire chi sono l'ho tolta no li fa no no ma ti conosco ti conosco sono stato un allievo della scuola elementare di tua zia e questo cioè al di là dell'aneddoto di per sé ovviamente ho portato i saluti a mia zia che è contentissima e si ricordava benissimo ha detto che era uno dei più bravi per cui voi avete un direttore che era uno dei più bravi dell'elementare di montecchio e così hai capito già di chi si tratta e no ma che era bravo anche l'elementare questa è la cosa particolare capito è al di là dell'aneddoto diciamo che insomma siamo in linea con quello che dicevamo ecco questo questa questo dare un insieme di condivisione di vita ecco questo è un po il punto e tra l'altro secondo me non lo so forse mi sbaglio però secondo me tutto questo si tramuta anche in un volano virtuoso perché perché chi è in cerca di avventure un po diciamo può capitare non ci va in una banca come questa perché sa che dall'altra parte c'è qualcuno che lo conosce eccetera e di conseguenza si crea un meccanismo quasi di scrematura automatica per cui non dico che tutti i clienti siano tutti buonissimi però sicuramente si sta in buona compagnia no dico bene l'ho interpretata bene assolutamente si può essere una chiave anche questa può essere una chiave anche perché chi cerca avventure lo inquadriamo immediatamente ma a volte anche il cliente che potrebbe avere delle difficoltà i suoi numeri non sono proprio così a posto ma conoscendo le caratteristiche la serietà e la correttezza di quel cliente a volte deroghiamo quei numeri non sempre deroghiamo a volte a quei numeri per poter andare incontro alle alle esigenze che poi queste esigenze diventano fondamentali per fare quello scatto in avanti e per risolvere quei problemi che diversamente potrebbero portare ad una problematica non dico di chiusura ma comunque seria ecco a volte affiancarci noi abbiamo fatto degli interventi su pesero su aziende importanti andate in concordato però abbiamo garantito lo stipendio a tutti a tutto il personale e lo continuiamo a fare perché perché le garanzie che ci hanno messo spur nelle difficoltà ci hanno permesso di fare questa operazione ma nello stesso tempo questa operazione è servita a pagare tutti gli stipendi a fare andare avanti questa azienda che con qualche difficoltà però piano piano sta uscendo dalle problematiche e questo è il vero ruolo della banca territoriale della banca locale che oltre a guardare l'azienda guarda anche a a tutto ciò che può accadere di riflesso un'azienda che va in difficoltà non paga gli stipendi quella quegli stipendi sono dio di una famiglia quella famiglia ha delle esigenze venendo la cassa integrazione sappiamo che c'è ma non arriva subito e quindi non può bastare invece uno stipendio pieno è quello che con fa dare continuità a quella famiglia e a tutto il resto quindi questo è il vero aspetto di una banca di credito cooperativo anche l'aspetto sociale per oltre essere in questo territorio anche un aspetto sociale della di sostegno del sostegno della comunità sostegno della comunità che noi lo facciamo con tutte le iniziative che la banca fa dalla dalle più piccole le più grandi le sponsorizzazioni di sostegno le parrocchie sostegno la caritas che noi da diversi anni sosteniamo per raggiungere per raggiungi un posto a tavola perché perché le esigenze oggi sono tante poi con questa pandemia purtroppo le esigenze sono aumentate le difficoltà sono aumentate la banca di peso quest'anno ha fatto tanta erogazione di credito è vero garantito dal dal dallo stato ma ha aumentato tantissimo i propri impieghi ha sospeso tanti finanziamenti alle famiglie che lo hanno richiesto perché non avendo immediatamente gli stipendi o la cassa integrazione si trovano in difficoltà a pagare le nostre rate la banca di peso è andata incontro a tutti accettando tutte le richieste che sono pervenute ed erogando quei finanziamenti alle imprese agli artigiani commercianti in tempi brevissimi cosa che altre banche che poi vengono in questo territorio si spacciano fanno una concorrenza a volte anche sleale ma mi fermo qui perché sennò potrei parlare parecchio non siamo qui a confrontare siamo qui a parlare delle cose importanti oppure non fanno quell'azione di sostegno necessaria necessaria quindi noi ringraziando la direzione tutto il nostro personale che sta lavorando molto bene molto bene la banca sta crescendo puntiamo crescere non in questa maniera come quest'anno perché i numeri sono doppia cifra perché è normale le richieste sono state tantissime il 2021 dovrà essere un anno di ulteriore crescita crescita normale una crescita normalizzata però comunque ci puntiamo e le premesse sono molto buone molto buone quindi questo è l'obiettivo nostro come banca perché ognuno di noi diciamo ha un rapporto con la clientela che spesso e per statuto deve essere almeno superiore al 50 per cento sono anche tutti i soci tutti abbiamo una quota io ho una quota della banca cioè non è che si è presidente della banca perché si detiene chissà quanto assolutamente ogni 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 socio ha una quota e quindi diciamo l'invito è che tutta la clientela diventi anche socia perché perché lo sviluppo di una banca viene dato dai soci e questo è l'obiettivo di di crescita che abbiamo come come numeri come quote di mercato e come numero dei soci parlavi di una origine lontano 1900 66 con le casse rurale le casse rurale artigiana e però la banca in questo momento invece è quasi all'avanguardia no quasi all'avanguardia anche per quanto riguarda le tecnologie io sono andato a vedere ovviamente gli strumenti di pagamento modernissimi satis pay concorsi a premi anche addirittura che non mancano il cashback adesso che è di moda non manca la nuova app un bel sito cioè tutto questo probabilmente anche perché una banca comunque di dimensioni giuste è anche più agile nello studiare quello che il mercato chiede è quello che il mercato soprattutto in questo momento delle nuove tecnologie propone esatto questo noi lo dobbiamo grazie anche al far parte del gruppo bancario icrea e questa nostra possibilità di avere noi abbiamo tutto quello che ha una banca di grandi dimensioni perché ripeto facendo parte del gruppo noi siamo vigilati dalla banca centrale europea quindi i nostri numeri devono essere appostissimo è chiaro che 136 banche hanno noi siamo in categoria a più perché abbiamo dei numeri veramente buoni e altre banche sono in categorie diverse tutti insieme però dobbiamo far sì che il gruppo abbia i numeri adeguati noi come banca siamo nati come dicevamo prima nel 1906 eravamo la vecchia cassa rurale artigiana che era stata fondata dai dei coloni e da dei sacerdoti perché quella volta era il sostegno all'agricoltura e quelli che non potevano rivolgersi a una banca perché non avrebbero avuto credito ecco questa evoluzione in 115 anni ci ha portato ad essere le vere banche di riferimento di ogni territorio perché avendo tutti i servizi dal primo all'ultimo e fatti anche bene perché li facciamo anche bene tra l'altro soprattutto ad esempio l'estero qualcuno pensava la bcc non fa l'estero la bcc fa l'estero come lo può fare l'unicredit come può fare banca intesa e non abbiamo le filiali sparse per il mondo però comunque l'estero lo facciamo molto rapidi e in maniera identica scusate identica agli altri istituti quindi la nostra forza è quella di avere tutti i servizi e di poter affiancare il cliente dal piccolo piccolo dalla famiglia al piccolo artigiano il commerciante alla grande impresa a 360 gradi una cosa che mi aveva colpito ieri quando ci siamo sentiti molto velocemente per per confrontarci un po su quello di cui avevano parlato oggi è questo fatto che l'aspetto sociale è l'articolo 2 del vostro statuto esatto perché le banche di credito cooperativo nascono con l'obiettivo che gli utili debbano essere devoluti agli investimenti sociali infatti se una banca di credito cooperativo dovesse chiudere per scelta non per problematiche perché si chiude per problematiche quegli utili sono stati già accantonati da tempo e utilizzati il patrimonio va devoluto ai fondi mutualistici per la cooperazione quindi la cooperazione è a servizio delle comunità e dei territori in cui si opera quindi noi in questo lo facciamo già destinando parte dei nostri utili che li dobbiamo avere per quel problema perché la banca è un'azienda tutti gli effetti e come un'azienda deve fare utile anche noi dobbiamo fare chiaramente con le stesse condizioni di mercato che hanno le altre banche poi questi utili noi le reinvestiamo in questi territori perché sosteniamo qualsiasi iniziativa necessaria umanitaria sociale e via dicendo sportiva per cui insomma volendo avviarci verso la conclusione possiamo dire che stiamo sfatando il mito negativo le banche sono tutte uguali no noi siamo differenti per scelta come dice anche il nostro nostro spot noi siamo banche differenti perché siamo banche ma poi abbiamo questi altri aspetti che sono il sociale e i servizi che siamo banche come gli altri per i servizi ma siamo differenti perché poi reinvestiamo in questi territori il fatto di essere nel territorio di raccogliere i risparmi quindi noi dobbiamo restituirli ai nostri clienti investire e fare gli impieghi alla clientela per sostenere le loro iniziative quindi dobbiamo pretenderli indietro perché poi dobbiamo dargli a quei risparmiatori ecco poi reinvestiamo in questo territorio assumiamo le persone di questo territorio cioè questa è la forza e in questo chiedo il sostegno a tutta diciamo la clientela è presente e futura della banca perché se vogliamo far chiedere che c'è un territorio una banca in salute è necessaria e fondamentale per la crescita cresciamo noi cresce il territorio perché reinvestendo queste inattività delle più disparate dal sostegno all'attività che il comune l'amministrazione comunale mette in atto per adesso quest'estate purtroppo siamo stati un po' in difficoltà però i mercatini di Natale venivano sostenuti e oggi non sono stati fatti vorrei dire che li terremo da parte esatto era lì che volevo arrivare era lì che volevo arrivare abbiamo proprio pochi poi così l'amministrazione mi sgrida perché dice tu prometti però è questo che dobbiamo fare e se non promette il presidente chi promette scusa ognuno il suo ruolo e a questo punto infatti poco prima di andare con la dedica che ci sarà fra qualche minuto ti strappo una promessa noi abbiamo ovviamente Banca di Pesaro ha un legame molto molto forte con Rossini TV ma in particolare io ho questo legame con Masterfish che stiamo tutti aspettando di poterlo riproporre contiamo su di voi Masterfish l'anno scorso è stato fatto ed è stato molto apprezzato è stata una cosa veramente carina, bella ed apprezzata quest'anno purtroppo non l'abbiamo potuto fare per il momento, per la pandemia ma è normale che il prossimo anno quando si potrà la banca sarà presente come lo è stato prima e come è presente con tutte le altre iniziative di cui abbiamo parlato di ogni tipo quindi a volte uno dice, vede sempre sto logo a volte dice ma ne spendete troppi sono quella parte di utili che dobbiamo destinare al sostegno delle iniziative gli altri li accantoniamo, noi abbiamo un patrimonio importante che ci permette appunto di fare attività importanti ed essere anche nelle marche stesse presi come a volte banca pilota dalla capogruppo per le nuove iniziative perché? Perché la nostra direzione, il nostro personale funziona e poi le filiali non sono tutte uguali ci sono quelle più dedicate agli impieghi quelle dedicate alla raccolta però comunque insieme è una bella squadra la direzione sta funzionando molto bene il direttore Paolo Benedetti ha dato seguito a quello che era stato fatto in passato però dandogli una spinta nuova, una spinta più fresca una spinta diciamo coinvolgendo tutto il personale in maniera più attiva e di conseguenza i risultati si stanno vedendo Lo salutiamo perché è stato anche nostro ospite qualche settimana fa vi riavremo ospiti di nuovo nella ripresa nell'anno nuovo sicuramente per venirci a raccontare il libro vero e proprio dei sogni del 2021 che tutti ci aspettiamo e ci immaginiamo ricco di nuovo di iniziative di tante cose Lo speriamo tutti Bene, allora ci siamo, grazie Grazie a voi Adesso andiamo, stiamo per andare in pubblicità Solo un attimo per un saluto a tutti gli ascoltatori per fare gli auguri di un Natale non felice ma sereno perché purtroppo in questo momento dobbiamo solo sperare nella salute e in un Natale sereno un anno in cui ci possa permettere di ritornare alla vita normale perché questa vita così chiusi non è piacevole per gli affetti familiari e via dicendo e quindi un invito a tutti gli ascoltatori e a tutta la cittadinanza a diventare parte attiva di questa banca perché la banca di Pesaro sarà la loro banca e la banca di tutti noi quindi un invito a diventare anche soci perché questo vuol dire far crescere la famiglia cioè la famiglia più è grande più è bella e quindi è un in bocca al lupo a tutti Grazie Grazie per l'invito e auguri a tutti e in bocca al lupo anche a TV Rossini perché quello che sta facendo lo sta facendo molto bene ed è un canale in cui ci si rivolge facilmente perché a stare a sentire sempre il televisionale tutto questo elenco di problematiche TV Rossini gli dà un taglio diverso Anche Rossini TV è vicino al territorio E' vicino al territorio e poi Rossini TV ci siamo Allora grazie Massimo e a questo punto c'è la dedica c'è Alivero la dedica benissimo abbiamo scelto una canzone bellissima da un film bellissimo Buongiorno Casa Rossini sono Luca vorrei augurare che questo anno nuovo ci porti tanti abbracci magari e assembramenti con le persone che amiamo Buon Natale Buon 2021 a tutti i telespettatori grazie Luca e inoltre vogliamo noi salutare tutte le persone che ci seguono sui social c'è qualche nome così al volo Marco, Cristina, Gabriele e Anna che ci stanno guardando nella diretta Facebook perché ricordiamo che Rossini TV è in diretta televisiva naturalmente ma anche in diretta Facebook e in diretta sul streaming sul sito www.rossinitv.it La canzone che abbiniamo a questa dedica è City of Stars canzone bellissima presa da un film meraviglioso che è La La Land e ci vediamo subito dopo con Emanuele Rossi Eccoci ma io insomma praticamente adesso faccio la rassegna stampa e delle giornali da questo divano perché è già la seconda giornata che sono qui infatti ciao a tutti ciao a tutto il pubblico di Rossini TV ricordiamo cosa ci riferiamo ieri sera noi eravamo in diretta ieri sera anzi ringrazio perché ci avete guardato in tantissimi ci sono arrivati i messaggi email grazie per la vostra partecipazione abbiamo voluto così raccontarvi un po' più di noi e farvi vedere anche i nostri studi televisivi poi magari il prossimo step il prossimo anno troveremo il modo di farvi partecipare anche attivamente magari venire qui in tv con noi ci lavoreremo ci lavoriamo ci lavoriamo sempre con ovviamente la speranza di poter farlo assembrarci esatto questo è l'obiettivo che tutti abbiamo in questo momento allora come è andata perché questo a questo punto dobbiamo dire io sono molto contenta 17 puntate 17 puntate di questo 2020 di Casa Rossini voglio ringraziare la Gulliver Andrea Boccanera per averci gentilmente dato questi mobili che come sapete si possono acquistare nel bottegone del riuso in via Toscana quindi insomma c'è ancora tempo poi per fare qualche bel regalo di Natale esatto si possono acquistare questi mobili oggetti insomma tutte le cose che vedete qui sono prese appunto dal bottegone del riuso per farvi capire che siamo insomma ecosostenibili e poi voglio ringraziare anche Garden Florio per tutti questi belli addobbi che insomma che ci ha dato che ci hanno fatto compagnia proprio tutto il set natalizio per Casa Rossini quindi ringraziamo Franco e anche il figlio Florio sì Federico Federico no bello perché poi ci si sente veramente l'arredo natalizio fa periodo per cui fa festa fa festa per cui ci siamo affezionati adesso dovremo privarcene dovremo tornare quando torniamo l'anno nuovo dovremo tornare dopo penseremo al carnevale di allestire il set per il carnevale con mascherine e coriandoli io voglio anche ringraziare Allegra che è stata la nostra appunto e sarà continuerà ad essere la nostra segretaria di redazione per l'aiuto per fissare tutti gli appuntamenti degli intervistati te Paolo chiaramente che sei entri io mi sono divertito molto con tanta educazione nel salotto del nostro pubblico prossimo anno vi diciamo già che potrete anche partecipare attivamente quindi questo numero di telefono che vedete lo renderemo ancora più attivo come magari ogni giorno ogni puntata facendovi una domanda su un argomento anche curiosa così potete partecipare magari chiamare anche in diretta qui in tv e se volete raccontarci qualcosa potrete farlo chiamando anche il numero fisso adesso voglio fare una cosa che mi viene in mente tutte le mattine e poi me ne dimentico durante la puntata perché è talmente tanto l'attenzione che dedico agli ospiti che finisco per dimenticarmi non che a te non ti dedico attenzione ma in realtà hai detto una cosa che mi ha fatto ritornare in mente questo allora io ho il cellulare come ce l'avete voi tutti quanti è vero che l'Emanuela proprio durante la canzone mi ha detto devi ripetere più volte il numero imparare la memoria però aiutatemi anche voi prendete il cellulare adesso e fate più nei contatti più poi scrivete casa Rossini Rossini tv e poi ci scrivete 351 708 9977 ripeto 351 lo ripeto guardando la telecamera guarda così non lo leggo 351 no me lo ricordo non lo sai 351 708 9977 lo scrivete nel vostro cellulare a quel punto non avete più bisogno di andare a ricordarlo ogni volta ce l'avete direttamente esatto e ci mandate i vostri messaggi quando volete partecipare al programma ci mandate anche un semplice saluto noi vi leggeremo tra l'altro poi non è limitato ai messaggi scritti possono mandarci un vocale ma anche un video poi non so se riusciremo a mandarlo in onda subito magari la puntata dopo vi mandiamo in onda insomma quindi benissimo questo è il vostro salotto l'altra volta avevamo approfondito un po' le cose del libro personologi oppure non le avevamo approfondite mi sembra di sì ma non erano molto affini allora non le vado a rivedere affini perché Emanuele è nata il 21 agosto leone però una cosa che non ti ho detto l'altra volta che il tuo nome è di origine ebraica e significa Dio è con noi lo sapevi te ma magari gli spettatori no Emanuele è un nome in realtà che non è molto in uso Emanuele non ce ne sono tantissime persone che si chiamano così ma va a periodi la storia dei nomi per esempio mi chiamo Paolo Paolo non ce ne sono tanti oggi c'era Paolo Moroni però non ce ne sono tanti ma quando ero piccolo io probabilmente invece qualcuno in più come nome allora forse gente della mia età Paolo tra l'altro nel mio caso è perfetto perché vuol dire piccolo di statura perché Paolo vuol dire poco Paolo Post vuol dire poco dopo in latino per cui vuol dire piccolo di statura e mi ci ritrovo invece nel caso di Paolo Moroni per esempio non ci azzecca per niente perché lui è è altissimo è altissimo comunque sì 21 agosto Leone quindi così come anche il mio socio i soci di Rossini TV sono tutti e due del segno del Leone e quindi insomma siamo molto affini pericolo? dobbiamo essere preoccupati? no 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 siamo molto affini poi dopo c'è anche l'ascendente che è un po' diverso quindi però siamo molto affini il segno penso che sia un segno piuttosto generoso buono molto ambizioso io non mi intendo però mi domando quanti adesso in questo periodo dell'anno faranno gli oroscopi no sai perché perché dopo l'anno scorso non è che sia andata benissimo cioè tutti quelli che si erano prodigati a ipotizzare nessuno mai aveva potuto immaginare che il 2020 sarebbe andato così per cui molti cattivelli sono andati a rivedere cosa avevano detto i vari Paolo Fox e tutti e ovviamente avevano detto di sbagliatissimo perché nessuno aveva potuto immaginare una cosa del genere ma c'era chi si era slanciato anche nella possibilità di dire che l'anno sarebbe andato bene per cui secondo me quest'anno c'era c'era molta più cautela te cosa dici sì secondo me comunque il prossimo anno Paolo potremo fare uno spazio oroscopo ci stiamo lavorando a voi mi interesserebbe avere l'oroscopo ecco vedi lei come gli vengono bene le domande come gli vengono bene amici miei avere così essere aggiornati sull'oroscopo della settimana magari perché potremo destinare o lunedì o mercoledì o venerdì all'oroscopo quindi l'oroscopo settimanale di casa Rossini se vi può interessare mandateci un vostro feedback magari non vi interessa niente mi devo mettere il turbante e il luccichini oppure chiamiamo qualcuno magari un po' più credibile vediamo dai vediamo come mi piacerebbe di più ecco mi piacerebbe di più che fossi io col turbante e il luccichini ma poi ce ne sono tante le domande avete fatto i regali di Natale sai quante domande ci sono da fare ogni giorno perché vabbè c'è anche la gente che arriva all'ultimo minuto è che a me mi vengono bene le domande con gli ospiti perché ce le ho qui davanti le domande così generiche un po' io poi sono uno che si fa i fatti suoi capito non è che vado tanto a impicciarmi non sei curioso non sono curioso io quindi sono curiosissima è quello è quello pensare che c'è mio frattore Gabriele dice sempre viva la curiosità è il suo motto io sono curioso ma per altre cose per esempio quando preparo le caratteristiche dalla giornata io mi perdo delle volte e dico basta così perché quando ho scoperto che giorno è perché e cosa è successo dopo a un certo punto mi fermo tu hai fatto i regali Paolo? io ho fatto una cosa molto particolare che non posso svelare perché ho fatto un regalo speciale unico per tutte le persone che mi sono più vicine e basta perché non è aria in questo periodo no infatti quest'anno piccoli pensieri e niente di più perché insomma mi sono sbilanciato in una cosa creativa è venuta fuori una cosa che spero sia apprezzata ma proprio siamo nell'ambito dei familiari e basta anche perché poi non potendosi incontrare dovrò fare questa specie di distribuzione brevi mano uno a uno non faremo la riunione di famiglia quella che ovviamente era un bel momento ma di aggregazione per cui insomma non si può però insomma sono stato leggero diciamo ecco sono stato leggero e poi chiaramente anche il Capodanno tra l'altro noi a Capodanno vi ricordate amiche amici che siete a casa che noi a Capodanno trasmetteremo un concerto bellissimo da Fano non perdetevi sia la prima serata della vigilia che la prima serata del Capodanno anzi ecco ve li facciamo vedere qui guardate allora la vigilia vi faremo vedere fate come ho detto prima col telefono adesso fate una bella foto al televisore così vi rimane foto allora praticamente il 24 quindi dopo domani vi trasmetteremo alle ore 21 questo bellissimo concerto dello schiaccianoci che proprio siamo in clima natalizio pazzesco con l'orchestra sinfonica Rossini non perdetevelo perché saremo in diretta poi Capodanno visto che starete tutti a casa come noi per alietare la vostra serata vi faremo vedere questo sconcerto delirico con i grandissimi amici del San Costanzo Show che ridere già a pensarli mi viene da ridere alle ore 23 quindi collegatevi su Rossini TV come vedete non vi abbandoniamo poi se Andrea dalla regia vuole farci vedere anche le messe ci tengo in modo particolare alle messe perché è un servizio che ci richiedete sempre e quindi noi quando il Vescovo ci dà insomma l'ok noi cerchiamo di portarvi anche questo servizio il 25 dicembre infatti alle 11.30 c'è la messa appunto natalizia e poi per augurare un anno migliore di quello passato il primo gennaio ascoltiamo appunto il Vescovo sempre in diretta dal Duomo alle 18.30 insomma noi non ci dimentichiamo del pubblico a casa soprattutto in questo periodo perché adesso se no sembra che salutiamo diciamo ci vediamo l'11 uno dice chiudono no no la tv è sempre attiva domani c'è la rassegna stampa domani che giorno è? il 24 domani è la vigilia oddio domani ci sono io con voi alla rassegna stampa la mattina alle 7.20 domani sera il telegiornale non ci sarà però poi ritorniamo insomma la prossima settimana con il nostro telegiornale alle 19.40 in replica alle 20.40 e anche con la rassegna stampa quindi chiudiamo poco e tra l'altro visto che dovete stare a casa rimanete sempre su Rassegni TV perché avrete la possibilità di rivedere un sacco di programmi che magari le esigenze di lavoro vi hanno obbligato a perdere anche la festa di ieri sera ad esempio la festa di ieri sera sì a caso una delle 17 puntate di Casa Rossini esatto tutto quello che tanto uno zibaldone come si pesca si pesca bene per cui voi state lì ecco in questo state tranquilli non c'è bisogno neanche che usate il telecomando quando avete trovato il 633 bravo mi è venuta in mente un'altra domanda amici che siete a casa se vi piacerebbe vedere un programma in particolare il prossimo anno che ne so vi piacerebbe vedere un programma di cucina un programma di che non stiamo facendo magari di fitness eccetera qualsiasi cosa vi può venire in mente o sulle bellezze sull'entroterra non lo so mandateci le vostre idee perché noi chiaramente le lavoriamo le studiamo le progettiamo e siamo molto in ascolto a quello che ci consigliate voi perché questa è la vostra tv la tv della provincia di Pesaro Urbino la tv della regione Marche quindi se avete delle idee anche di programmi televisivi io ce l'ho lo sai io ce l'ho una che è un sogno però quella estiva quella estiva sì ma quella lì poi dopo la ragioniamo bene però questa è un'idea che ho che sto maturando che sto facendo quasi macerare perché devono nascere così ed è un sogno e il sogno è di un quiz televisivo che abbia a che fare però ovviamente non tutto perché sennò sarebbe dedicato però che abbia a che fare col dialetto un quiz televisivo però lì è difficile no ma che ha a che fare capito che c'ha è quella la parte difficile per sennò organizzare un quiz televisivo uno oppure un quiz televisivo con delle nozioni relative alla nostra provincia di Pesaro Urbino ci deve essere la città ci deve essere come si dice così la gente a casa può partecipare può chiamare dire poi vincere ricchi premi ecotio io lo sto sognando così capito lo sto sognando così con i premi con i premi per chi è a casa e i premi per qualcuno in studio qualcuno in studio sì qualcuno in studio potrebbero essere dei ragazzi delle scuole cioè ti dico ci vogliono gli studi di Mediaset Paolo sì ci vogliono gli studi un po' grandi le idee di Paolo però ci si può arrivare però dai possiamo passettino passettino cerchiamo di fare anche un quiz televisivo su Rossini TV dai il prossimo anno vediamo un po' facendo un quiz televisivo si può anche paradossalmente non fare in diretta ma puoi avere il pubblico che ti segue dalla diretta perché se tu lo registri per il pubblico per i concorrenti in studio ma al contempo quando lo metti in onda interagisce attraverso i social il pubblico può interagire in diretta ma la registrazione può essere fatta precedentemente no io direi di farlo in diretta sì perché e poi è bello anche che la gente chiami e risponda alla domanda è certo in diretta è certo poi noi siamo una tv non siamo social noi siamo una tv la gente da casa lo so lo so alzare la cornetta il cellulacornetta non ce l'ha più nessuno la cornetta è difficile prendere il cellulare e rispondere alla domanda che facciamo in quel momento però guarda ti dico magari ci rifletto un po' di più durante le feste sono tante idee vediamo un po' cosa fare ci rifletto di più durante le feste allora altro cosa ci diciamo altro niente abbiamo ringraziato io a te io ti devo ringraziare perché mi hai dato questa grandiosa opportunità ti ringrazio in diretta perché mi hai dato questa grandiosa opportunità di fare sostanzialmente una specie di sintesi della mia vita nel senso che io ho cominciato molti lo sanno qualcuno no ho cominciato nel 1976 con una radio che era poi la prima radio di Pesaro che chiamava Stereo Pesaro 103 da lì io ho avuto sempre a che fare con radio con il microfono Pesaro Village insomma la scrittura i libri l'approfondimento cose molto molto sconclusionate un po' qua un po' là un po' là questa esperienza che tu mi hai dato la possibilità di fare non solo Casa Rossini anche gli speciali Masterfish gli speciali insomma queste anche le letture sono in qualche modo una specie di sintesi come se io avessi aperto i cassetti delle mie esperienze li avessi messi insieme li metta insieme anche quotidianamente e poi li tiro fuori in queste cose che vengono ecco perché mi sento così a mio agio mi sento così tranquillo poi capirai in un allestimento come questo sembra casa mia quella è la tua poltrona sembra casa mia bisogna che la porto via bisogna che la compro questa qui da Gulliver bisogna che la compro ecco questo è il motivo per cui di questo io posso solo ringraziarti perché mi ha dato questa bellissima opportunità e io proprio sono molto contento di essere riuscito a dare un verso e a mettere in fila e a canalizzare un po' tutte queste cose sconclusionate che nella mia lunga vita ahimè ahimè sta per lunga e ho fatto allora la frase conclusiva qual è che fare le cose con passione torna e soprattutto la gente lo nota perché la gente da casa vede quanta passione e amore ci mettiamo nel fare quello che facciamo quello che fai tu quello che fanno i giornalisti le alzatacce che facciamo la mattina ma la mattina abbiamo già dalla mattina abbiamo sempre tutto il sorriso quindi fare le cose con passione e io questo è l'augurio che faccio a tutti voi che siete a casa magari qualcuno ha perso il lavoro qualcuno si deve rinventare allora chiudete gli occhi pensate alla cosa che vi piace in assoluto e di fare e non ponete limiti alla provvidenza perché se veramente con passione desiderate una cosa quella cosa piano piano vi arriva mai smettere di sognare anche se alcune volte i sogni ci sembrano grandissimi non è così probabilmente si possono realizzare quindi questo è l'augurio che faccio a tutto il pubblico meraviglioso di Rossini TV bene cosa dire dopo questo niente non possiamo dire nient'altro sono stati strepitori sono le 11 e 16 perfetti perfetti non diciamo nient'altro grazie a tutti auguri 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 e vediamoci presto e anzi vediamoci sempre al prossimo anno con casa Rossini con casa Rossini e vediamoci sempre grazie a te ciao a tutti grazie a tutti